Noi, come sempre, diamo il benvenuto al primo ospite, Thomas Nobili. Ciao Thomas, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a voi, buongiorno Paolo, grazie per l'invito e un saluto agli amici di Rossini TV. Ti è piaciuta questa introduzione? No, io ero proprio esterefatto, stavo seguendo con ammirazione tutta la tua introduzione, sia a partire da San Filippo Neri, mi fa molto piacere perché poi parla di tanti ragazzi, dei giovani, dell'oratorio che ha creato un'esperienza che anche io ho vissuto quando ero più giovane, per poi arrivare al Dow Jones e al Nasdaq, questa cosa di Dow Jones non la sapevo. Se dovevo approfondire, lì ci si ferma perché quando è ora, anzi, l'input è il solito, andate a vedere poi, incuriositi da questa cosa, andate a vedere e scoprite di cosa parlano perché sono cose che noi sentiamo tutti i giorni, poi magari... Anzi, aggiungo che noi le ascoltiamo quando decidiamo se mangiare il dolce o la frutta dopo pranzo, dopo ci ne mette, ascoltiamo gli dati sul Dow Jones. Il dolce di oggi è veramente sul pezzo, Thomas Nobili nella sovrascritta naturalmente abbiamo riportato una delle tue qualifiche che è quella di essere presidente del CSV, del Centro Servizi per il Volontariato, ma poi vedremo e scopriremo che sei molto di più. Ma prima di tutto, come tu mi avevi anche chiesto, ti vuoi sottoporre al rito di personologi, questo libro che abbiamo portato alla notorietà nei mesi in cui stiamo facendo appunto Casa Rossini. Sono già emozionato, perché questa cosa mi... Come è noto, io non leggo niente prima, per cui lo scopriamo insieme, c'è sempre il rischio che dica cose che magari non piacciono, però insomma... Condivido e vediamo. Va bene così, il 9 marzo, giusto? Esatto. Il giorno del viaggio nello spazio, già questo non sappiamo bene, forse sarà una celebrazione. Individui riflessivi e sognatori, i nati il 9 marzo, sono spesso impegnati a esplorare e analizzare lo spazio che li circonda a livello mentale, fisico, emotivo e spirituale. Sono curiosi di conoscere praticamente ogni cosa, non soddisfatti fino a che non arrivano alla radice di una questione o di un problema. Beh, guarda, ti stupirò, ma sono completamente in linea con quello che dici. Io sono così contento. È incredibile, guarda. Allora, diciamo la verità, i 20 euro spesi meglio degli ultimi anni, perché quando l'ho comprato ho detto, boh, e invece mi sta dando delle soddisfazioni questo libro notevoli. Allora, Gagarin è nato, lo sapevi? Iuri Gagarin. Iuri Gagarin è nato, ne abbiamo parlato tra l'altro. il primo uomo nello spazio, Ornella Muti, Paola Quattrini, stiamo parlando dei nati nello stesso giorno, e Amerigo Vespucci, insomma, voglio dire, insomma, sei con... Dalla bellezza agli esploratori, non posso che essere orgoglioso, magari, so, tra vent'anni qualcuno scriverà che anche io ero nato. Thomas Nobile nel libro qui, lo mettiamo. Ok, speriamo che un po' di più. Intuitivo, sognatore, riflessivo, sono i pregi, insomma, dai, questo quadretto è perfetto. Diciamo che parto bene stamattina. Direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Di iniziare la giornata con voi con questa indiscrezione. Avevamo concordato di partire appunto da questo impegno col Centro Servizi per il Volontariato e forse è opportuno fare come col Nasdaq, cioè spieghiamo bene cos'è il CSV. Sì, guarda, lo faccio con molto piacere, anche se poi spesso quando incontro le persone mi chiedono, ma di fatto cosa fa il CSV? Il Centro Servizi per il Volontariato nasce, diciamo, dal punto di vista della storia con la legge 266 del 1991 e viene istituito perché deve fondamentalmente sostenere, aiutare e coordinare le attività di volontariato, delle associazioni di volontariato e dei volontari, delle singole persone che decidono di fare volontariato. Di fatto è un'associazione che aiuta le associazioni, non fa volontariato diretto, quindi non ha una mission specifica, ma la sua mission iniziale è proprio quella di essere, come dire, un po' da supporto a tutti quelli che decidono invece di fare attività specifiche e lo fa attraverso la formazione dei volontari, che è una delle cose secondo me più importanti perché i volontari non ci si improvvisa. Nasce la voglia di, poi però bisogna essere strutturati per poter dare il contributo più corretto. Lo fa attraverso la possibilità di cedere la propria sede nel momento in cui è necessario fare delle riunioni, degli incontri, dei direttivi, delle associazioni. Lo fa con delle coprogettazioni a livello regionale e anche europeo, quindi dà un supporto a chi decide di aiutare gli altri. Questo è un po' la sostanza. Da lì oggi cos'è cambiato? Che con la riforma del terzo settore, con il codice del terzo settore, questo ruolo è ancora più forte. È stato istituito il registro unico del terzo settore e il CSV ne ha, come dire, in qualche modo la paternità e deve comunque in qualche modo aiutare i volontari a essere sempre più pronti a dare supporto alle persone. L'organigrama praticamente è strutturato da base mondiale, poi base nazionale, eccetera? Diciamo che la struttura è nazionale, o meglio è regionale. I CSV sono regionali e in rete fanno parte di CSV.net, che è la rete nazionale dei centri servizi. Poi sulla regione ci sono delle delegazioni provinciali. Il CSV Marche ha le delegazioni provinciali, che non hanno, come dire, un carattere economico e autonomo, ma sono delle delegazioni che devono in qualche modo riportare le esigenze della provincia al direttivo regionale, che poi prende delle decisioni un po' più strutturate e anche dal punto di vista economico. Quindi siamo un po' le antenne. Quindi si è avvicinato questa cosa del volontariato? Guarda, ti posso dire questo. Il libro di Personology parla di una persona curiosa. Io credo che quello che ha sempre mosso un po' la mia vita è stata sempre la curiosità. La curiosità di scoprire le persone, prima di tutto le loro storie, ma anche di scoprire la realtà che mi circondava. Poi da quando ero piccolo, insomma, ho sempre avuto modo di seguire le realtà del mio quartiere, quindi la prima associazione a cui ho fatto parte, di cui sono ancora socio, che è il Mantello. Poi un evento, diciamo, che mi ha colpito moltissimo, che è stato il lutto di mia mamma, mi ha fatto conoscere la fondazione Ante e da lì ho pensato di fare un percorso non solo di volontariato, ma di sensibilizzazione ai giovani. Quindi abbiamo creato una sezione giovani in cui abbiamo fatto feste, aperitivi per raccogliere fondi. E da lì, insomma, poi mi sono avvicinato al centro servizi come delegato del Mantello e sono entrato nel direttivo, poi presidente provinciale. Insomma, un bel percorso, però un percorso che segue un po' quella che è la tua vita curiosa, no? Assolutamente. Questo fatto di volere e anche comunque di mettersi a disposizione, perché poi se il centro servizi per volontariato mette a disposizione tutto quello che sai che può per le associazioni, te sei a disposizione del centro servizi, per cui sei proprio il più disponibile di tutti, insomma, se vogliamo. Sicuramente tutti quelli che fanno parte del centro servizi nel direttivo, che sono insieme a me, fanno tutti volontari, sono tutti volontari che non vengono retribuiti ovviamente, ma sono semplicemente persone che mettono a disposizione il loro tempo e la loro esperienza. Ma lo fanno nell'ottica di crescere tutti. Io ho sempre detto, quando incontravo tutti gli altri volontari, come dire, che ognuno di noi è un po' il tassello di un mosaico, che singolarmente siamo un pezzettino colorato, ma sei messo insieme agli altri e poi facciamo un capolavoro. E quindi a ognuno di noi è chiesto semplicemente di essere se stesso, di portare il proprio contributo, il proprio dono, la propria capacità e poi il resto lo si fa insieme. Ci vogliono competenze molto forti, perché poi è un mondo, questo del terzo settore, che è comunque governato da delle regole, delle leggi, alle volte che confliggono una con l'altra. Insomma, non è propriamente tutta una situazione di rose e fiori. Per cui credo che sia necessario proprio avere una bussola ben chiara e qualcuno che ti orienti. Ma assolutamente. Il centro servizi, tra le altre cose, fa proprio dei corsi di formazione anche ai presidenti, nel senso di gestione delle risorse umane, perché i volontari, proprio perché decidono di fare un'attività volontariamente libera e non retribuita, arrivano con il proprio bagaglio culturale, personale e non sempre siamo tutti in linea su certe cose. E quindi il presidente ha anche la funzione di cercare di fare un po' squadra, guardare tutti nello stesso punto, ma ognuno con la sua particolarità. In più il centro servizi, come dicevi tu, deve aiutare anche a svolgere funzioni di trasparenza, perché poi ogni realtà deve fare un bilancio, deve mostrare che la sua attività è ovviamente in linea con il codice del terzo settore, con la legge e quindi questo anche a volte nel nostro paese la burocrazia non sempre ci aiuta e il centro servizi fa anche quello. La sensazione è che nella nostra provincia ci sia un bel fermento dal punto di vista del volontariato. Dal tuo punto di vista l'osservatorio cosa dice? Ma guarda, ti posso dire che nella nostra provincia sono quasi 400 le realtà di volontariato, più o meno attive, ma tutte nate da un'esigenza. E quindi l'esigenza è proprio quella di contribuire nel proprio territorio con la propria attività. E sono tantissime le persone che decidono di fare volontariato. Qualcuna in maniera più strutturata, più duratura nel tempo, qualcuna magari anche semplicemente per delle occasioni specifiche. È facile raccontarvi come durante il lockdown abbiamo ricevuto tantissime telefonate di persone che non hanno mai fatto volontariato, ma che in quel momento volevano dare un loro contributo. Alcuni rimangono limitati a quello, altri invece poi decidono di proseguire il percorso in maniera più strutturata. Questo sicuramente dimostra che c'è un territorio molto sensibile e quindi la voglia di aiutarsi a vicenda è molto forte. Noi abbiamo ospitato il Presidente dell'Avo che ci diceva che chiaramente hanno dovuto riparametrare quello che era la loro attività, visto che l'attività consisteva nell'assistenza personale, fisica all'interno delle strutture ospedaliere. E loro si sono in qualche modo reinventati di slancio con questo numero a disposizione che ha avuto un grande successo, al punto da superare anche i limiti territoriali. C'è voglia, giustamente, un volontario vuole operare, per cui non si sono voluti fermare con il lockdown e questa è una cosa importante. Assolutamente importante e Avo, come tante altre realtà che lavoravano, tra virgolette, facendo attività in presenza con le persone, si sono dovuti tutti un po' reinventare. Ma come io ho notato in questo ultimo periodo, a volte anche dalle difficoltà nascono delle nuove opportunità e abbiamo aperto, io credo, anche la porta ad un modo nuovo di rapportarsi che mantiene indubbiamente quello che era prima. Quindi il rapporto umano non può essere lasciato da parte perché è ciò che ci rende comunità e ciò che dà valore al mondo del volontariato. Però abbiamo capito che anche quando questo non è possibile, non è detto che non si possa fare volontariato. Già il fatto di riuscire a non far sentire sole le persone che sono a casa da sole, anche in una telefonata. Mi è piaciuta molto l'idea anche del Comune di Pesaro che aveva attivato insieme all'ambito territoriale il fatto di sollecitare i giovani a chiamare i propri nonni. Ecco, non dobbiamo mai dimenticare che il rapporto umano fa la differenza sempre. Bene, allora, naturalmente potremmo andare avanti a parlare di questo, ma siccome gli argomenti sono diversi, l'abbiamo già detto, io voglio portarti invece in un altro ambito, nell'ambito dello speakeraggio, per così dire. Avrete notato che Thomas ce la cava molto bene col microfono, procede bello, fluido, liscio e molto chiaro. C'è un motivo, insomma, perché lui col microfono è particolarmente abituato a interagire, visto che tra le tue attività di grande successo c'è comunque tutto un rapporto con il mondo dello spettacolo e con la presentazione di iniziative di spettacolo, giusto? Spettacolo e sport. Ma sì, adesso ti dico una cosa che tu sai benissimo ma che non ti avevo mai detto prima, ma in realtà la mia carriera, chiamiamola così, di speaker, di presentatore è nata sicuramente nella mia parrocchia, perché io quando ero molto piccolo mio babbo mi spinse, visto come mi piaceva rapportarmi con gli altri a cominciare a fare lo speaker del presentatore. Ma io ho fatto un passaggio importante che è quello di un corso di formazione con Pesaro Village. Ne parlavamo prima fuori onda perché Paolo che ha fatto questo corso, che ha fatto per tanti anni, non so se lo fate ancora, forse no. È in partenza adesso con una struttura, con una delle associazioni di categoria, con Confartigianato, ma è una questione di iscrizioni, insomma siamo nella fase delle iscrizioni, è in partenza. Allora mi fa molto piacere, perché in quell'occasione Paolo mi diede degli importanti suggerimenti gli raccontavo prima sugli errori che io facevo in quel corso e quindi in qualche modo sei partecipe anche di questo percorso professionale che è arrivato. Diciamo che è andata bene allora, l'indicazione, se andava male avevo corretto o sbagliato, insomma invece così vuol dire che qualcosa... Sicuramente quello che sei riuscito a trasmettermi e che ancora mi porto oggi dietro è il divertimento nel fare quello che si fa, cioè salire sul palco o presentare qualunque evento a me ancora oggi non solo mi emoziona quando lo sto per fare, ma mi diverte. Poi quello che arriva al pubblico io non lo posso sapere, ho spesso avuto dei riconoscimenti positivi e mi fa molto piacere, probabilmente qualcuno potrò anche non piacere, questo è fuori di dubbio, però quello che mi ha sempre portato avanti, che io mi auguro mi porterà avanti fino alla fine, è proprio il divertirmi col pubblico. L'esperienza di un evento in diretta dal vivo con il pubblico di cui oggi manchiamo tutti tantissimo, quell'emozione lì è fortissima, è veramente una carica che ti porti dietro sempre, che farà sempre la differenza per me. Per esempio stare dentro un palastetto dove la VL magari in quel momento vince e poterlo proclamare a un pubblico entusiasta è sicuramente una cosa che arriva quasi come se l'ultimo canestro l'avessi fatto te. Ma sì, guarda, la VL è un'esperienza che è nata quasi 15 anni fa e ancora oggi mi dà veramente delle bellissime soddisfazioni e grandi emozioni, lì poi c'è una particolarità perché devi assolutamente mantenere un ruolo come dire neutro perché non puoi assolutamente esagerare nelle dare euforia quando facciamo canestro, ma nello stesso tempo però devi anche caricare sia il pubblico che i giocatori e quella è un'esperienza molto affascinante perché poi quest'anno in particolare senza pubblico è stato tutto molto più difficile, però il ruolo nostro è quello di essere dei bravi mediatori tra la correttezza delle regole che sono imposte dalla Lega ma anche l'energia che devi trasmettere nei tifosi che poi devono diventare il sesto uomo in campo, quindi devono dare il supporto alla squadra. È un ruolo che è cresciuto negli anni, io mi ricordo i primi anni, anche gli anni dello Scudetto con Giorgio, Gionmi che magari era più un'indicazione di chi faceva canestro in quel momento eccetera, invece adesso credo che ci sia un po' di più da dire. Sì, Giorgio io l'ho conosciuto durante un programma radiofonico che conducevo con Andrea, con l'Ape Andrea di cui magari poi parleremo, ed è stato per me quasi un padre, mio babbo l'ho perso quando ero molto piccolo e Giorgio in qualche modo mi ha raccontato la storia del basket pesarese un po' come se fosse mio padre. Quando poi mi sono trovato ad affiancarlo dal tavolo abbiamo fatto un percorso un po' di condivisione, nel senso che io ho portato un po' quell'energia e quel tocco di animazione che forse non c'era e lui ha insegnato invece a me l'arte di essere come dire moderatore in quello che dicevo prima. Quindi sicuramente abbiamo fatto un passaggio insieme, per esempio la presentazione della squadra veniva fatta a sedere al tavolo. Io ho proposto insieme ad Andrea nella nostra un po' idea di animazione di farlo invece al centrocampo, come se fosse un evento, perché poi di fatto la partita è un evento, è un evento sportivo ma è un evento. E quindi questo sì, in effetti come dici tu, ha portato a una modifica dal punto di vista dell'animazione. Se durante le partite di basket ci vuole questa sottile mediazione tra appunto stare tranquilli ma a far capire. Col Palio dei Braceri invece no, col Palio dei Braceri ci si può sbizzarrire. Il Palio dei Braceri è un'esperienza che ti rimane dentro a vita. Io ho fatto quasi, credo che quella di quell'anno scorso doveva essere la decima edizione che non è mai partita purtroppo, ma quella del Palio dei Braceri è indubbiamente l'esperienza che ti fa toccare con mano l'energia dei giovani. Ti fa toccare con mano la voglia di una città, di essere città, di essere presente e ti fa toccare con mano proprio la passione dei colori e del divertimento. E questo secondo me è indubbiamente una delle cose che mi ha colpito di più. Molto faticoso, devo ammettere, forse l'ho detto anche altre volte, ma non ho paura di dirlo che sono giornate veramente difficili. Poi quella della finale, io mi ritrovo nel fossato di Rocca Costanza alle 2 di pomeriggio ed esco più o meno alle 10 di sera. Un parlare continuo e i primi anni avevo grandi difficoltà con i fumogeni perché il fumo era per la voce nemico, però veramente grandi emozioni. Tantissimi ragazzi che ho incontrato. Un po' di radio, un po' di tutto. Noi facciamo parte, sia io che te, di una famiglia esposta dal punto di vista artistico e del palco. Tra tutto, ti è mai capitato di presentare un concerto di tuo fratello Simone? Allora, se non ricordo male, sì, uno solo. Lo salutiamo, tra l'altro. Salutiamo Simone se ci vede. Ciao Simo. Credo di averne presentato uno solo però perché in realtà non ci siamo mai decisi a farlo. Credo che, tra l'altro, quando l'ho fatto l'ho anche improvvisato perché ero lì a sentire e lui poco prima di iniziare mi fa ma perché non mi presenti tu stasera? E io ho fatto ma perché no? E quindi l'ho fatto con molto desiderio e mi ha fatto molto piacere. Non sono riuscito mai però ad averlo tipo ospite, insomma, in programma radiofonico che conducevo e neanche in un concerto strutturato dove io avevo già l'incarico di presentare. Quello non mi è mai successo ancora. Prima di passare negli ultimi minuti alla terza cosa che vogliamo affrontare, che è poi il tuo ruolo di consigliere comunale, un ricordo particolare, un po' così, eclatante, non il più bello, però eclatante, delle tue varie presentazioni di tanti anni passati su un palco col microfono? In realtà, sì, da raccontare ce ne sarebbero tanti perché poi sono state veramente tante le cose che sono successe. Forse te ne racconto una simpatica che potrebbe far ridere perché quando tanti anni fa la VL decise di fare gli allenamenti della prima squadra nelle palestre dei paesi dell'entroterra, io insieme a Rappi Andrea e a quella volta c'era Michele Braccini che saluto, che faceva il DJ, seguivamo la squadra, quindi andavamo a fare animazione nelle palestre dei paesi dell'entroterra. In un'occasione specifica il microfono che dovevo usare per presentare il sindaco del paese e la squadra, non funzionava e mi diedero un microfono col filo. Cominciamo la presentazione, Andrea aveva questa abitudine con il suo vestito di prenderti da dietro all'improvviso e poi ti trascina con lui e ti fa cadere a terra. Io purtroppo in quell'occasione non vidi Andrea arrivare, lui non vide che io avevo il microfono col filo, lui mi fece cadere all'inietro, ma io non lasciai il microfono e feci cadere tutto l'impianto. Ci fu un attimo di blackout totale, il sindaco stava parlando con la musica in sottofondo, si fermò tutto, abbiamo distrutto l'impianto e Michele, tra l'altro che era il DJ, l'impianto era il suo e abbiamo anche rovinato il mixer e le casse e questa rimase nella storia perché chiaramente Andrea ripagò tutto a Michele, si sentì in colpa, anche se poi anche io ero un po' in colpa perché dovevo lasciare il microfono. E certo, ma distinto, lo speaker e il microfono non lo molla mai. E il suo mestiere, l'attretto del mestiere non lo può lasciare. Lo tieni in alto anche quando finisci in acqua, insomma voglio dire, è la sua presenza. Allora abbiamo 3-4 minuti per parlare di questa tua avventura politica, visto che sei consigliere comunale e tra l'altro mi sono segnato le commissioni, sei presidente della commissione politiche educative, scuola e pari opportunità, rimaniamo un po' nell'ambito, e componente delle politiche sociali, della commissione politiche sociali. È un'esperienza che mi ha sempre incuriosito, vista da chi arriva da un percorso diverso, insomma. Assolutamente sì, ma io in realtà credo che torni l'elemento della curiosità di cui ti parlavo all'inizio perché la curiosità mi ha spinto a conoscere tante persone, tante realtà e questo ancora oggi mi spinge molto a come dire essere sempre impegnato nel territorio, in quello che io vedo vicino a me, alle persone che incontro e che spesso mi dicono ma perché non metti a frutto ancora di più la tua esperienza, la tua capacità anche di dialogo, perché politica poi è anche dialogo e mediazione. Per tanti anni ho riflettuto su questo concetto e quando è arrivato il momento delle amministrative di Pesaro, la riflessione si è fatta ancora più concreta e quando poi mi è arrivata la richiesta anche di pensarci in maniera più seria per questa lista civica, ci ho un po' riflettuto e alla fine ho accettato. Una sfida perché in realtà io non vengo da un percorso politico, non mi sono candidato in un partito politico perché la nostra è una lista civica, quindi mette insieme persone che hanno fatto dei percorsi diversi nell'ambito sociale, sportivo e quindi era la volontà di portare la voce dei cittadini senza un taglio per forza politico. L'esperienza poi è andata bene perché poi sono riuscito ad entrare in consiglio e oggi sto notando come questa curiosità continua a mantenersi forte e chiaramente però ti devi scontrare anche con dei meccanismi che non conoscevi e che in alcuni momenti non mi appartengono fino in fondo, però è un percorso veramente molto interessante che sto facendo con molta energia anche perché poi arriva sempre dopo il lavoro, la famiglia, i tanti impegni e dobbiamo sempre ritagliarci il tempo anche per studiare. Sei riuscito a mettere la firma su qualcosa che inciderà sulla vita pubblica o che sta già incidendo sulla vita pubblica? Allora sì, ho presentato tra le varie emozioni, la prima credo se non ricordo male, che era quella legata al mondo della diversabilità, proprio perché venendo dal mondo del volontariato ho sempre avuto rapporti costanti, diretti con delle realtà che mi hanno sollecitato l'attenzione alle persone con disabilità. La mozione che presentai ormai un anno fa, che venne approvata l'unanimità e ne fui anche molto orgoglioso, anche se poi devo specificare che le mozioni nascono da una persona ma poi vengono condivise con il gruppo consigliare, con la maggioranza e quindi poi diventa un percorso di gruppo. Non mi piace molto parlare troppo di una persona che fa qualcosa, ma è veramente una condivisione, quello deve essere secondo me, l'adesione del Comune di Pesaro alla Convenzione ONU sulle persone con disabilità, quindi una sorta di regole che devono essere alla base nelle decisioni di una città nei confronti delle persone con disabilità. Quella fu una delle mozioni a cui tendi di più, poi altre ci sono state sul campus, sul cercare di migliorare la viabilità del campus e tanti altri percorsi che abbiamo fatto insieme. Bene, se avessimo più di tempo potremmo parlare, non abbiamo commentato le foto. È vero, siamo alle foto, percato non siamo riusciti. E' un attimo che ti richiamo per l'ultima puntata di lunedì, perché avevamo in scaletta delle foto da commentare, ma ci siamo fatti prendere dall'euforia delle cose che ci siamo detti. E poi un'ultima battuta su questo progetto con i ragazzi, ci sto a fare fatica. Sì, bellissimo progetto. Il CSV promuove anche quest'anno, come lo scorso anno, un progetto che nasce in realtà da un'altra realtà di CSV del Nord, ma che noi abbiamo portato nelle Marche, grazie anche alla Regione Marche che lo ha appoggiato e lo ha finanziato. Un progetto che vede coinvolti i ragazzi dai 16 ai 21 anni durante il periodo estivo. Il progetto si chiama Ci sto a fare fatica. Vuol dire coinvolgere i ragazzi di quella fascia di età nel fare lavori di manutenzione dei beni comuni. Un po' per in qualche modo impegnare nel periodo estivo, che è spesso un periodo per loro a volte vuoto. Un po' per farli prendere coscienza che i beni comuni non sono beni di nessuno, ma sono beni di tutti. E in quanto beni comuni di tutti dobbiamo tutti tenerci un po', fare attenzione e tenere al fatto che siano tenuti nella maniera inadeguata. E quindi i ragazzi potranno impegnarsi nel ripulire i parchi, pitturare le panchine che sono rovinate, sistemare delle stazionate, quindi occuparsi della propria città. In modo che poi si sentano anche responsabili e evitino di sporcare, di rovinarli prima, ancora di doverli pulire. Fin quando fa qualcun altro sembra sempre più facile, no? Esatto, invece quando si comincia ad essere in prima persona, allora succede anche dentro casa, no? Praticamente. Che è un po' il ruolo che abbiamo anche come genitori, no? Aiutare i ragazzi a capire che ci sono dei beni e delle cose che devono sentirsi responsabili loro per primi, perché sono le loro e noi dobbiamo lasciarle a loro poi tra l'altro queste cose. Thomas, è stata anche chiarata piacevolissima. Noi ci conosciamo appunto come avete sentito da molti anni, però non c'era capitato mai di fare due chiacchiere così, soprattutto di pensare che queste nostre chiacchiere sono arrivate a casa a tante persone che hanno avuto l'opportunità di conoscerti, di approfondire la conoscenza di un altro, dei personaggi della nostra città, che è un po' lo scopo che abbiamo messo in piedi quando abbiamo pensato a questa trasmissione, a questa casa Rossini. Grazie per essere stato così. Grazie a voi, mi fa molto piacere Paolo, perché veramente è stata una chiacchietta molto molto informale, ma anche proprio bella, ed è una delle prime volte che riesco a parlare di tante cose tutte insieme, perché spesso mi chiamano come Presidente del CSU, come consigliere comunale o altro, quindi mi ha fatto molto piacere, tornerò molto molto volentieri e ringrazio gli amici che sono all'ascolto, che ci hanno seguito e che lo faranno anche in replica, nei prossimi giorni, quando ci sarà chi da replica. Replica, esatto, bravissimo. E poi se posso voglio salutare Andrea Fazzi che sarà ospite tra pochissimo, che arriverà perché è una persona strepitosa, che ho conosciuto sempre anche col mondo del volontariato ed è una guida per tanti ragazzi che vogliono conoscere il mondo del Parco Miralfiore da noi a Pesaro, ma in generale il mondo dell'ambiente. L'uomo che sussurra agli alberi, sarà il nostro terzo ospite. Adesso andiamo in pubblicità, poi saremo di nuovo in studio con Barbara Bulgarini della ditta, Bulgarini Ascensori, con la quale scopriremo cose molto interessanti, restate con noi. Ancora grazie a Thomas e alla prossima occasione. Grazie a voi e buona giornata.